Ecco la moglie che lo caccia via facendogli un versaccio accompagnata da una sua degna comale, guardate l'espressione, con questo povero vecchio che resta solo con la sua malattia. Apro una parentesi perché avete visto che a Venezia è coperto da un drappo, ma qua da noi a Seravalle in Sant'Andrea è coperto da foglie, attenti non sono foglie di vite ma sono foglie di morer, come mai sono foglie di morer? Perché a Ceneda c'è anche una leggenda di Giobbe che è bellissima e dice questo, che quando questo povero vecchio era sotto il sole su questo mucchio di letame, Dio ha avuto pietà di lui e per creargli un po' di ombra ha fatto nascere vicino a questo povero vecchio un albero mai visto prima, era il morer. E sempre Dio ha trasformato i vermi che uscivano dalle sue piaghe in un animaletto mai visto prima, l'avevo riconoscendo, è il cavalier che vedendo là un morer ha detto ben mi vai su e magne, l'attacca, ecco perché da noi Giobbe è il protettore dei bacicultori e quindi si copre di foglie di morer, di foglie di genso. Chiudo la storia e poi vi saluto, non capisce Giobbe il male e non lo capirà, il male è un mistero, veramente è difficile trovare se non si affede una risposta al che cos'è il male e perché è capitato a me. Giobbe non lo capisce ma un certo momento dice lo accetto, va bene non so perché è capitato a me, non lo capisco ma lo accetto, abbassa la testa e di nuovo adora Dio. Allora Dio è contento, Satana è sconfitto, Dio ha avuto di nuovo l'adorazione di Giobbe e adesso lo premia e gli restituisce con gli interessi tutto quello che gli aveva portato via. Vi ricordate? 3500 cammelli gliene dà 7000, 7000 pecore gliene dà 14000, 7 figli maschi gliene dà 14, 3 figlie femmine, 3 figlie femmine. Andate a rileggere la Bibbia, non è colpa mia, è proprio così, però la Bibbia dice che sono bellissime e che Giobbe le nomina eredi al pari dei figli maschi. Con queste tre bellissime donne vi ringrazio e vi dico di nuovo buon anno. Grazie. Grazie.